Ciao ragazzi, io sono Riccardo, bentornati nel mio canale YouTube. Anche oggi, come ogni settimana, vi leggerò il volantino della Lidl con gli utensili della Parkside, gli attrezzi per il fai-da-te. Questo è il volantino con l'uscita compresa tra il 24 e il 30 giugno 2024. Come sempre, vi leggerò le didascalie, vi farò una descrizione per gli utensili, praticamente quasi tutti, che già postieto, vi farò anche una mini recensione e vi darò le mie opinioni. Iscrivetevi al canale perché solo in questo canale troverete il volantino sempre in anteprima. con tutte le informazioni che altrove non riuscite a trovare. Quindi mettiamo il volantino sul bancone e osserviamo tutto quello che ci propongono. E andiamo quindi a pagina 22 del volantino. Del giovedì 27 giugno 2024, il primo articolo che troveremo sarà l'avvitatore ricaricabile con impugnatura pieghevole a 17,99€. Come vedete in questa immagine, l'impugnatura si può utilizzare sia in posizione dritta oppure ripiegata a forma di pistola. E questo vi permette di raggiungere punti difficilmente raggiungibili quando è in posizione di pistola. Nell'impugnatura sulla parte bassa troviamo anche un led per poterlo utilizzare come una normale torcia. Quindi guardiamo la didascalia. Illuminazione automatica a led sul pezzo in lavorazione. Significa che sulla parte frontale è un piccolo led che alla pressione del tastino si accende e ci illumina la zona nella quale dobbiamo avvitare le nostre viti. A differenza del led nella parte posteriore che invece va acceso con un tastino apposito. Il numero di giri a vuoto è di 200 al minuto e la coppia è di 10 Nm al massimo. 200 giri al minuto per un avvitatore di questo tipo sono ideali perché ci permettono di gestire per bene la potenza perché 10 Nm per questo tipo di lavoro non sono assolutamente pochi e quindi ci dà la possibilità di fermarci senza arruinare il cuciolato perché questo tipo di avvitatore si utilizza soprattutto per il montaggio di mobili tipo quelli dell'IKEA eccetera. Ma io in realtà l'ho utilizzato anche per il montaggio di tantissimi altri componenti e sinceramente mi sono trovato sempre bene. In dotazione ci saranno anche 26 bit, porta bit, magnetico e cavo di ricarica USB. Però considerate che costa 17€ e 99€ e con circa 20€ c'è in vendita l'avvitatore più grande della Parkside che può fungere anche da trapano. Quindi valutate in base all'utilizzo che dovete farne. Se avvitate solo delle viti soprattutto di piccole dimensioni e volete una buona gestione allora con questo siete a posto. Se avete bisogno di un avvitatore tuttofare che vi permetta di praticare dei fori e di avvitare i viti anche più grandi e di fare diversi tipi di lavorazione allora orientatevi sull'avvitatore più grande. Ogni cosa va utilizzata nel modo corretto. Questa invece è la pistola termica a 17,99€. Pure questa con un range di regolazione della temperatura su due livelli con 350 gradi 330 litri al minuto 600 gradi 500 litri al minuto di aria. In dotazione ci sarà anche un ugello riduttore ugello a spatola ugello piatto ugello per accensione barbecue e assorbirà 2000 watt. Come vedete le temperature sono così alte che si può utilizzare anche per accendere il barbecue e in un video vi ho fatto anche una dimostrazione. Ovviamente si può utilizzare per tantissimi aspiscopi quindi per esempio per le guaine termorestringenti che tra l'altro vi farò vedere sempre su questo volantino si può utilizzare per sverniciare come si vede in questa immagine e per tante altre situazioni nelle quali è necessario per esempio deformare della plastica e altre circostanze. Da questa parte invece troviamo dei set di punte di trapano 5 o 6 pezzi l'unico set con 5 pezzi è quello per pietra poi abbiamo anche quello per il legno e quello per il metallo e costeranno 2,99€ ciascuno. C'è bisogno che vi dico che non sono delle punte di altissima qualità sono delle punte base entry level probabilmente soprattutto quelle per la pietra e quelle per il metallo si consumeranno in pochissimo tempo o potrebbero non essere dritte. ma per 2,99€ se dovete fare dei lavoretti rapidi e non avete bisogno di tantissima precisione volendo potrebbero andare bene. Questi invece sono accessori per abrasione a costo di 99 centesimi ciascuno ci saranno delle spugnette abrasive flessibili queste invece sono delle spugne abrasive con grani differenti anche questa è una spugna abrasiva però a differenza di questa questa ha due lati con due grani differenti qua troviamo invece due rotoli di carta abrasive e queste invece sono dei tamponi in lana d'acciaio qua invece troviamo carrello da trasporto universale al costo di 12,99€ con superficie d'appoggio per quello rotondo di 380 mm di diametro e invece quello rettangolare sarà 57,5 x 29 cm dotati di quattro ruote piroettanti riescono a caricare un peso massimo di 250 kg ciascuno e le ruote hanno un diametro di 7,5 cm però sono delle ruote rigide come ho detto più di una volta e attenzione se le utilizzate sul parquet o altre superfici non durissime da questa parte invece c'è la lampada da lavoro ricaricabile testa inclinabile con due sorgenti luminose tre livelli di luminosità luce rossa e lampeggio rosso con base magnetica e gancio 6500k 800 lumen oppure 100 lumen al costo di 9,99€ io possiedo una versione molto simile non è proprio la stessa è molto comodo il fatto che si possa inclinare la posizione della testa che la base sia magnetica quindi si può utilizzare per esempio per fare manutenzione all'automobile poggiando la parte magnetica sulla carrozzeria orientando il fascio luminoso al nostro piacimento qua invece c'è un set di lime per officina 17 pezzi per lavorare legno e metallo a costo di 14,99€ in dotazione 4 lime per officina 200 mm 12 lime per chiave 140 mm e spazzola a filo metallico io vi ho recensito un'altra versione di lima e raspe quindi sia per il metallo che per il legno vi lascio il link per vedere la qualità perché dovrebbero essere le stesse ma con colorazioni differenti infatti quelle erano rossa e nere queste invece sono verdi e nere qua invece troviamo delle magliette che questa volta mi piacciono davvero come grafica a parte quella bianca che ha una grande scritta parkside sulla schiena in quella nera invece c'è il disegno del gattuccio quindi la sega a sciabola con una scritta parkside e qua invece c'è un disegno stilizzato con un avvitatore parkside la scritta un pochettino più discreta sempre parkside a 4,99€ qua ci sono dei set a costo di 9,99€ sono chiavi combinate 5 o 6 pezzi con 72 denti e un angolo di lavoro di 5 gradi come vedo queste immagini anche se sono molto piccole alcune sono snodate le altre invece no poi da vedere quando arriveranno comunque ci sarà una offerta con due confezioni la seconda si pagherà al 50% al lato troviamo un set di chiave a brugola esagonali composte da 8 pezze con impugnatura a T e costeranno 8,99€ sulla parte più lunga della chiave a brugola troviamo anche questa sferetta che serve per poter abitare e svitare avendo un'angolazione quindi un movimento più agevole in base al punto in cui si trova la vite da questa parte ci saranno pantaloni da lavoro zip off per uomo 17,99€ materiale esterno idro repellente e con rinforzo sulle ginocchia fessure per inserire protezioni per ginocchia non incluse misure comprese fra 48 e 58 invece per le magliette la misura era compresa fra S e W XL qua giù invece ci sarà il nastro da pacchi 4 pezzi oppure il set dispenser questo permette di applicare il nastro adesivo sui pacchi eccetera con molta comodità e velocità come ho detto anche la volta precedente io con il nastro adesivo della Parkside mi trovo benissimo e qua ci sono dei morsetti a una mano 2 o 4 pezzi anziché di colore nero come precedenti questi sono di colore verde e costeranno 9,99€ al set per quanto riguarda le misure abbiamo un'apertura di 200 mm con 60 kg di tensione invece per quelli più piccoli avremo un'apertura di 150 mm 100 mm con forza di tensione di 40 oppure 20 kg e questi sono misuratori digitale dipendenza o di profondità che costeranno 12,99€ ciascuno questo è un calibro che permette di misurare l'altezza per esempio di una fresa di un ostacolo oppure la profondità di una scanalatura una fresatura eccetera e permette di impostare l'altezza delle frese montate sulle fresatrici della lama del banco sega e tanto altro ma siccome l'ho recensito vi lascerò il link anche questo misuratore di pendenza con il metro digitale l'ho già recensito questo serve per impostare sul banco sega l'inclinazione della lama o per trovare inclinazione di qualcosa che stiamo montando tra l'altro è magnetico quindi poggiato sulla lama possiamo posizionarla a piacimento osservando semplicemente il display senza bisogno di tenerlo ma andiamo indietro allora vi faccio vedere che ci sono altre cose per il fai da te in offerta quindi giovedì 27 giugno troviamo i morsetti di una mano versione precedente a costo di 2,99€ ciascuno questo è il modello però con apertura 150 mm poi questi morsetti a pinza e questa invece è la colla per legno 250 ml con asciugatura rapida trasparente 250 ml qua giù troviamo squadra combinata righello multiangolo calibro angolare o goniometro per sega per tagli obliqui a 4,99€ ciascuno e secondo me a questa cifra non bisognerebbe farseli scappare poi qua sulla destra troviamo set di guaine termorestringenti a 4,99€ ciascuno 125, 162 225 oppure 450 pezzi ci sono di diverse colorazioni diverse misure tra l'altro mi sembra che ci siano oltre che bianche anche trasparente e qua stavo dimenticando colla oppure nastro adesivo della Patex a 3,99€ ciascuno poi per chi è appassionato incisioni laser volevo avvisarvi che ci sono pure questi taglieri e altri oggetti da cucina in bambù da poter incidere e anche oggi il volantino si conclude qua sperando che nelle prossime uscite ci siano ancora più prodotti non mi rimane che ringraziarvi di aver visto il video fino in fondo vi invito ad iscrivervi al mio canale mettere mi piace cliccando qua sul pollicione all'insù cliccate sulla campanella per rimanere sempre aggiornati e ricevere le notifiche e ci vediamo tutti nei prossimi caricamenti ciao da Riccardo e a presto